Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro webinar delle ore nuove IndieGap, siete con Andrea Di Marco, datemi conferma audio video cortesemente, prima di iniziare ovviamente vi leggo il disclaimer avviso su esonere responsabilità nel webinar, qualunque parere, notizie, ricerca, analisi, prezzo o altro tipo di informazione forniti sotto forma di commenti generali sul mercato non costituiscono consigli di investimento sono dati con finalità educative in ambiente demo, XTB non si assume nessun tipo di responsabilità per perdita o danno un preso manca di profitti che potrebbero sorgere o dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni perfetto, trasferiamoci direttamente in piattaforma, andiamo a verificare un po' la situazione degli indici partiamo ovviamente con il DAX, con ovviamente gli indici che hanno aperto alle ore 8 come vedete ieri ovviamente la sessione era chiusa per via delle festività e oggi sostanzialmente non c'è stato un gap di notevole importanza e attualmente vediamo una candela piuttosto importante al rialzo questo io personalmente non mi farei ingannare perché comunque sia il long ci sta però giusto sopra questa piccola resistenza a un minuto attualmente per effettuare il nostro ingresso siamo già in ritardo sostanzialmente approfitto per dare un'occhiata ovviamente anche a livello daily eccola qui a livello daily, vedete qui abbiamo avuto una pinbar piuttosto importante giovedì se non ricordo male, era il 23 mercoledì scusate e il giovedì abbiamo avuto quindi una conferma di questa pinbar oggi cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere esattamente una candela piuttosto poco movimentata anche dal punto di vista del calendario macro non ci sono notizie piuttosto importanti quindi almeno fino alle ore 16 orari in cui negli Stati Uniti c'è il conference board consumer confidence quindi ho il dato sulla fiducia dei consumatori che di per sé non è poi così fondamentale e quindi non andrà ad incidere molto sul mercato quindi una pinbar piuttosto interessante, attenzione quindi al massimo che si forma proprio in questo momento c'è ampio margine quindi cerchiamo un attimino di orientarci dal mio punto di vista con i livelli di Fibonacci eccole qui attuali, siamo proprio sul 50 andando ad analizzare l'ultimo range significativo siamo proprio sul 50 quindi in questo momento qui l'obiettivo plausibile potrebbe essere il 61.8 un acquisto proprio in questo momento potrebbe essere buono però come vedete anche a livello probabilistico siamo proprio un 50 e 50 quindi in questo momento qui io personalmente non mi muoverei attenderei più che altro di capire dove si possa dirigere il prezzo quello che sì è interessante qui centrare cos'è al di là di tutto è la candela giornaliera che si sta formando anche se è passata poco più di un'ora e una candela che molto probabilmente come vedete è un inside bar dentro la candela precedente vedete 10.021, 9.880 il prezzo si potrebbe muovere all'interno di questo range e difficilmente quindi andremo a vedere una rottura dei massimi e dei minimi precedenti del giorno precedente, anteriori e quindi questi livelli che vi ho dato poc'anzi ve li faccio rivedere in M15 sono dei livelli che secondo me sono molto affidabili cosa facciamo? sul 78.6 andiamo a ricercare lo spunto short sul 23.6 andiamo ad effettuare un acquisto sul 50 ovviamente non ci muoviamo perché comunque a livello di probabilità e di rischio di rendimento ci ritroveremo con un rapporto 1 a 1 quindi francamente non ve lo consiglio vediamo un attimino tutto a posto, perfetto andiamo a vedere anche lo UK100 che è in una situazione piuttosto simile come vedete non vedo gap di apertura vedete a un minuto non ci sono gap di apertura l'analisi rimane la stessa di quella effettuata sul DAX un punto piuttosto qui interessante vedete qui c'è questo gap piuttosto interessante che potrebbe essere chiuso in una maniera piuttosto celere però francamente siamo un po' sullo stesso livello nel M15 anche qui se andiamo a vedere i livelli giornalieri vedete qui siamo un po' sotto il 50 quindi qui un acquisto ci sta in automatico potete acquistare anche sul DAX sono praticamente molto molto simili vedete sul DAX siamo sul 50 sul UK siamo sul poco sotto il 50 quindi in questo caso qui possiamo anche tentare un acquisto un long fino al 61.8 idem sul DAX consiglio che vi do sempre quando magari il DAX essendo più volatile quando non vi da indicazioni o comunque vi lascia un po' dubbiosi quindi guardate sempre lo UK100 che generalmente dà indicazioni più importanti ok? e andiamo a vedere lo SPA35 eccolo qui aperto con ieri lo SPA35 l'Ibex era aperto abbiamo una candela piuttosto significativa al rialzo eccola qui andiamo a vedere l'entità qui la nostra differenza sono circa una trentina di punti quindi abbastanza buono l'idea che mi sto facendo io ho visto anche come la situazione che c'era sugli altri indici era sicuramente quella di poter arrivare in questa zona qui del 423.6 perché sinceramente mi sembra come zona la zona migliore per poter andare a a collocare direttamente il nostro punto di di entrata e non mi muovere in questo momento sullo SPA35 perché tra una mezz'oretta ci sono i risultati di alcune delle aziende più più importanti quindi praticamente ci sono le trimestrali anticipate le proiezioni gli exit poll per così dire di alcune delle aziende più importanti che compongono l'Ibex quindi in questo momento qui personalmente non andrei non mi muoverei sull'Ibex 35 andiamo a vedere l'indice svizzero eccolo qui abbiamo un gap al rialzo anche sull'indice svizzero che molto probabilmente si si chiuderà proprio a breve vedete qui l'apertura è abbastanza importante vedete già siamo sul 61 quindi questo momento qui non ci permette di validare la nostra la nostra strategia su questo indice qui in particolare sembra essere interessante un potenziale acquisto proprio qui intorno allo zero per poter poi sperare un'onda a rialzo piuttosto significativa con stop proprio su questo minimo qui ok stop su questo minimo qui area di copertura per chi fosse più esperto proprio da questo minimo che vi ho segnalato fino al minimo successivo quindi questa è un'area di copertura piuttosto significativa fine per chiudere abbiamo anche il rest 50 abbiamo che ci aspettavamo un po' vista anche l'andamento del petrolio in zona 835 ci sta quasi arrivando vedete qui un indice piuttosto volatile vedete questa zona qui sembra essere una zona piuttosto importante gli 820 è una zona secondo me di supporto piuttosto interessante siamo attualmente in una zona di supporto piuttosto interessante quella compresa tra gli 838 e gli 820 quindi per chi poi volesse tornare ad acquistare secondo me gli 820 un livello piuttosto buono di acquisto più che altro qui a livello multi day perché così può trovare veramente un margine quindi cercare di puntare direttamente ai 1000 punti sull'indice andiamo a vedere il livello ecco qui M15 ecco qui un gap di apertura piuttosto significativo a ribasso che tracciando un po' i nostri livelli di Fibonacci ci dà anche l'area d'acquisto eccolo qui 828.8 vedete il 261.8 corrisponde a un'area d'acquisto piuttosto interessante andiamo a tracciare bene qui i livelli di Fibonacci eccolo qui 228.3 sembra essere un'area d'acquisto molto interessante cosa potete fare in questa parte iniziale essendo un gap piuttosto importante per chi desidera si può anche shortarlo fino a quell'area lì fino al 261.8 vi dico che l'indice russo per questa strategia è in assoluto il migliore per quanto riguarda i gap l'indice russo è in assoluto il più performante qui ci dà addirittura una doppia opportunità anche a livello multi day quindi perché non sfruttare l'unica cosa occhio con le size perché è un contratto piuttosto pesante un punto equivale a 90 euro ok per il momento è tutto la sessione ovviamente è registrata quindi tranquillamente la potete trovare più tardi online vi ricordo che oggi abbiamo ovviamente il doppio appuntamento alle ore 14 e 15 c'è il live trading quindi seguite anche il nostro appuntamento live delle 14 e 15 io vi vi auguro un buon trading e ovviamente una buona giornata per qualsiasi cosa andrei appunto di marco che ho ciole xdb punto it grazie mille a tutti e buon e buona giornata